e le spettatrici telespettatori di orsini tv benvenuti oggi un appuntamento importante siamo in studio con due ospiti finalmente di nuovo qua dopo averli inseguiti per mezzo italia e allora diamo subito il benvenuto a maurizio radi ciao maurizio buongiorno buongiorno paolo buongiorno a tutti e grazie di nuovo di averci invitato qua a raccontare questa bella avventura e al protagonista di questa grande avventura zico pieri ciao zico ciao ciao a tutti grazie per l'invito e grazie di nuovo per la possibilità di raccontare un'impresa e si va raccontata va raccontata assolutamente l'impresa e va anche un attimo ripreso un po il tema facendo un piccolo riassunto maurizio perché naturalmente noi abbiamo seguito tutto con molta attenzione però non possiamo avere la presunzione che tutti 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 i nostri telespettatori sappiano di cosa stiamo parlando e allora introduciamolo insieme di cosa stiamo parlando ma stiamo parlando di questi 30 giorni di zico che ha fatto sullo stelvio partendo diciamo da lontano un progetto che aveva in testa ormai da quasi due anni che ci ha pensato ripensato e che poi finalmente ha realizzato e mi ha fatto piacere di averlo sostenuto in in questo periodo anzi diciamo ancora prima che lui andasse su a pedalare e a tentare diciamo questa impresa questo record di scalate sullo stelvio per 30 giorni senza limiti quindi anche se inizialmente nella sua testa poteva pensare forse di dire boh farò 80 90 scalate ma sai di fronte a a una montagna così è una cosa veramente grande non sai mai dove puoi arrivare e infatti il titolo diciamo dell'evento era senza limiti e in effetti poi il limite è arrivato da solo insomma sono sicuro che qualcuno sta già cominciando a ricordarsi appunto che abbiamo presentato l'impresa nel corso di una conferenza un po spettacolo che si è tenuta a ca virginia e soprattutto abbiamo seguito anche quello che è stava succedendo perché l'impresa è durato un mese poi adesso daremo la parola a zico è perché vogliamo sapere da lui bene tutto quanto l'impresa è durata un mese e in questo mese abbiamo fatto anche un paio di incursioni attraverso i nostri tg approfittando del fatto che sei anche andato a trovarlo direttamente su allo stelvio si sono andato a trovarlo due volte diciamo dopo 15 giorni che lui pedalava e poi siamo andati su alla fine quando ormai era l'impresa era compiuta e posso dire che sono state è stata un'esperienza bellissima un'esperienza emozionante e vissuta in momenti diversi e la cosa che mi ha colpito a me e non solo me ma anche poi ad alcuni amici che sono venuti su con me nell'ultimo weekend quando abbiamo fatto l'ultima pedalata insieme è stato il coinvolgimento delle persone della zona da bormio paese fino a in cima allo stelio e ormai si può dire era diventato uno di loro cioè passavamo su per lo stelio e c'erano persone che lo salutavano quasi come se era uno di loro è la cosa che poi mi ha colpito tantissimo sono state se stato soprattutto l'ultimo giorno quando nell'andar su ci siamo fermati perché poi era veramente una scalata per festeggiare quello che ormai aveva compiuto e ci siamo fermati all'unico rifugio che c'è a metà stelio a prendere un caffè e quando siamo entrati veramente c'è il personaggio diciamo proprietario del rifugio ci ha accolto a braccia aperte e l'altra cosa molto veramente emozionante che mi ha lasciato colpito a 4 chilometri dalla vetta dello stelio cosa che avevo già visto nella prima escursione su che c'erano dei bambini lì con i nonni e i genitori con le mucche al pascolo fantastici perché li vedevi con i stivaloni in mezzo alle mucche e quando arrivava zico erano lì sempre a salutarlo una festa e l'ultimo giorno gli hanno preparato veramente una festa c'è una chiesetta siamo arrivati suonavano le campane questi bambini di 10 12 anni che zico è stato su lì per tanti giorni diceva che incontrava la mattina che li vedeva mungere il latte in mezzo alle mucche delle cose veramente che ti colpiscono al di fuori poi della pedalata delle di tutto il resto sono emozioni che ti toccano e dico non solo a me ma anche le persone che poi sono venute su con me sono rimaste veramente colpite da tutto questo colpite dalla filosofia e dalla realizzazione zico che effetto ti fa sentire parlare di te da noi in questo momento te sei qui presente e noi stiamo raccontando qualcosa dall'esterno no che effetto ti fa fa bellissimo effetto perché i miei principali obiettivi nel quello di esplorare e condividere e quindi questo importante obiettivo che era quello di condividere insomma comincia avere dei buoni feedback che sia passato come messaggio e anche veramente come ritorno di affetto da parte di tante persone non solo delle persone che che mi conoscono qui a livello locale e delle persone che hanno partecipato attivamente come Maurizio al progetto ma anche di persone esterne che non conoscevano me prima dell'evento quindi significa che anche durante l'evento siamo dico sono siamo in tutti quanti riusciti a trasmettere qualcosa di positivo e trasmettere il fatto che la condivisione era un valore importante allora spieghiamo bene ho voluto proprio appositamente prima introdurre poi riassumere un attimo perché così vi abbiamo incuriosito adesso vi spieghiamo meglio zico pieri è partito da pesaro lui è di caldi per cui è partito dalla nostra zona dal nostro territorio a metà giugno e dal 17 giugno al 17 luglio l'idea era sperimentare sulla salita dello stelvio quello che si poteva fare in bicicletta questo è un po detto in soldoni e detto da dalla parte di quello che non è sa niente è che probabilmente non sarebbe in grado neanche di fare i primi 200 metri che sarei io e sperimentare in che senso nel senso che probabilmente e ce lo dirà lui una scaletta ipotetica di quello che poteva essere lo sviluppo dell'impresa c'era però l'idea era quella di sperimentare di arrivare al limite o meglio di provare a vedere qual era questo limite visto che l'impresa non a caso si chiamava e si chiama unlimited questa situazione secondo me è l'essenza vera dell'impresa prima di tutto perché un'impresa con un obiettivo giustamente è un obiettivo da raggiungere ma un'impresa sperimentale è ancora più ambiziosa perché vuol dire andare a cercare di scoprire che cosa si può riuscire a fare e sono sicuro che nell'essenza di questo ci sta anche questa cosa di cui mi avete parlato perché il vedere qualcuno che testa bassa cerca di raggiungere un obiettivo sale scende sale scende poi ringrazia tutti salute se ne va è un conto e non si entra nella vita del posto e invece mi immagino che questa idea questa espansione di questo obiettivo che veniva costruendosi giorno per giorno e cominciava a entrare anche nell'immaginario delle persone dintorno sia stata un po la novità e il trucco vincente di quello che si è riuscito siete riusciti a fare non so se ho interpretato sì 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 sono d'accordo paolo io ho sempre detto e ribadisco che per diciamo mantenere alta la motivazione io avevo bisogno di percepire che le persone capissero anche il mio evento chiaramente i sponsor e i collaboratori era tutto più semplice perché il progetto è stato insomma discorso e ideato discorso e al quale abbiamo lavorato anche insieme ma le persone del posto sostanzialmente vedevano un ciclista che partiva la mattina e pedalava tutti i giorni fino alla sera quindi bisognava trovare anche qui una chiave per condividere e questo ha fatto sì che la mia motivazione rimanesse molto alta e quindi succedeva magari che io perdevo o investivo più che perdevo tempo anche sotto la pioggia a parlare con persone del posto perché la ritenevo una cosa di valore e loro stessi magari inizialmente rimanevano smarriti perché un ciclista si ferma a parlare di cose non inerenti allo sport con noi ma magari di cultura di territorio o di insomma ecco di per entrare veramente in connessione con quel territorio e le persone che lo vivono e questa cosa ha preso sempre più piede e ha alimentato veramente la mia motivazione perché si aggiungevano persone ogni giorno al progetto persone che tuttora mi scrivono per sapere come come sto nel dopo evento quindi sono create amicizie relazioni che vanno al di là dell'aspetto sportivo ecco e questo tra l'altro dà un significato ulteriore in tempi di virtuale ricordiamo che tu stesso hai fatto un'impresa facendo 4 4 4 resting sul terrazzo di casa e 3 4 su strada e 4 esatto su strada però quegli 3 sul terrazzo di casa perché in tempi di virtuale anche obbligato molto dal covid ma anche comunque entrato a pieno titolo nelle sessioni di allenamento scegliere di andare sullo stelvio che è una località mitica se vogliamo però che è una realtà ben precisa ben identificabile acquisisce ancora più senso proprio nel momento in cui si diventa parte di quel territorio altrimenti sarebbe una salita come un'altra altrimenti si sceglierebbe forse una salita con delle caratteristiche poi uno si mette lì tende alla partenza tende all'arrivo avanti e indietro eccetera invece questa volontà mi ha colpito molto questa volontà di entrare in maniera forte io ho vissuto diversi anni a madonna di campiglio per lavoro e conosco un po' la mentalità della gente di montagna anche se madonna di campiglio poi è una località turistica apertissima e alle volte quasi non è facilissimo riuscire ad entrare un po' quando si entra però si entra a pieno titolo cioè quando si entra si entra ufficialmente non si esce più non so se è successo sì sì è stato così anche per me magari ecco l'entrata in punta di piedi dico che apre sempre molte porte se poi alla fine le persone percepiscono che non c'è un interesse mediatico ma c'è un interesse reale di condivisione e quasi di richiesta cioè voglio capire bene il vostro territorio chi meglio di voi può aiutarmi la comprensione del vostro territorio piacerebbe che a noi tutti che lo facessero anche per noi nei nostri territori e quindi questa cosa mi ha aiutato molto nella condivisione mi ha aiutato tantissimo maurizio tu sostieni hai sostenuto l'impresa ovviamente con tutta la tua struttura con fisio radi center e anche personalmente fisicamente sei andato dopo i primi dieci giorni e dopo i primi dieci giorni hai dovuto fare un po una sorta di pit stop di sistemata perché naturalmente stiamo parlando adesso così allegramente poi vedete zico appena tornato tranquillo così come se nulla fosse ma stiamo parlando di qualcuno che ha fatto poi ci dirà appunto 100 salite dello stelvio in che modo in che termini il tutto con un fisico che va preservato gestito curato dopo i primi dieci giorni tu sei andato e com'era la situazione ma la situazione fisica di zico dopo diciamo due settimane che sono andato su era buona e probabilmente siccome poi ci sentivamo forse il periodo più difficile che ha passato è stata la prima settimana prima settimana perché magari sai quando parti per queste cose fai fatica a capire veramente quali sono gli equilibri ritmi da tenere e magari anche il fatto di cercare come si suol dire di mettere legna in cascina perché non sei mai la settimana successiva cosa trovi per strada sai sullo stelvio è un attimo che trovi tre giorni di neve e quindi lui stava bene si sentiva bene però ci sono stati un po tra virgolette degli inconvenienti che sono probabilmente dati da sai pedali in altura parti da bormio che sono 30 gradi arrivi su in alto che fa freddo e fai la salita che sei in abbigliamento estivo ma poi devi scendere non devi prendere freddo perché non è che dici torno a caso ho preso freddo faccio una doccia mi metto a letto e finito no magari più tardi devi riandare su oppure il giorno dopo devi riandare su e le condizioni climatiche le condizioni di altura quando fai uno sport di endurance non sono semplici da gestire e quindi possono dare problematiche a livello di stomaco di mal di testa di tanti equilibri che devi percepire e dove delle volte magari è bene che ascolti meglio il tuo corpo che ti manda dei segnali e quello che poi è capitato a zico all'inizio quando poi ha cambiato un attimino i suoi equilibri ed è ed ha trovato proprio il giusto equilibrio per poi arrivare in fondo a fare quello che ha fatto per dire è un giorno che c'è stato un po di traffico il giorno che siamo stati su perché era il weekend di qua di là è tornato in albergo l'ho visto lì era presto dico ma sei già qua sì ma quante ne hai fatte? dico eh ne ho fatte due ma è un casino ha detto erano le 4 del pomeriggio dico quindi ti fermi ho detto adesso vedo mangio qualcosa però sai qua fa notte tardi forse alle 7 alle 7 e mezza un'altra riesco a farla quindi avere questa mente lucida per poter ragionare in questo modo cioè magari alle 7 gli altri giorni aveva finito le sue tre scalate quel giorno lì alle 4 ne aveva fatte due si poteva anche fermare perché poi ne aveva già fatte tante nei giorni prima c'erano ancora tanti giorni però nella sua mente invece è scattato che siccome era sabato e quindi alla sera alle 7 poi il traffico sullo steglio non c'era più e lui è ripartito alle 7 e mezza e è andato a rifare un'altra scalata quindi secondo me sono queste le cose importanti da percepire in queste imprese non tanto il numero di scalate che fai ma riuscire mentalmente a capire dove il tuo corpo ti sta portando ascoltarti e poi trovare i giusti equilibri per andare avanti qualità statica qualità dinamica c'è uno dei miei scrittori preferiti si chiama Pirsig hai elaborato quest'idea cioè qualità statica è il massimo da ottenere per preparare per essere pronti per sistemare tutto nei dettagli poi bisogna farlo e il farlo è la qualità dinamica l'insieme della qualità statica la qualità dinamica dà il risultato questa è una chiave straordinaria infatti una frase che mi ha colpito in quei giorni che eravamo lì quando poi gli ho chiesto come stava adesso inizio a star bene mi sembra che sto iniziando ad entrare in forma adesso e quando siamo andati su alla fine che gli ho chiesto di nuovo come stava di qua di là ho detto guarda adesso mi sembra proprio di avere dopo 30 giorni insomma eravamo alla centesima scalata di essere veramente arrivato al massimo della mia forma fisica quindi queste sono cose che devono fare riflettere delle volte non è perché stai facendo fatica fisica devi sempre andare via testa bassa devi capire quando devi rallentare o devi poi recuperare perché poi dopo te lo ritrovi una cosa che mi ha colpito nell'ultimo weekend quando eravamo su perché poi in albergo dove eravamo lì abbiamo incontrato un altro personaggio Omar di Felice che è un altro di quelli che fa cose sia diciamo viaggi in bicicletta in posti dalla Mongolia per dire all'Everest ma fa anche per dire gare di ultra cycling e quindi era lì che presentava il libro eravamo ospiti a questa presentazione e una persona dal pubblico gli ha fatto una domanda particolare ho detto ma scusa ma quando fai queste cose soprattutto questi ultra cycling 2500 km vince che ci impiega meno tempo senza dormire insomma come ti alimenti come ti gestisci quando capisci di fermarti ho detto guarda l'alimentazione ho detto non puoi pensare di fare una di queste cose mangiando solo la barretta al gel delle volte che ti fermi e ti fai una cena una pizza perché ha bisogno il corpo ma ha bisogno anche la tua testa e quello di dormire e questa è una frase che mi ha colpito ho detto quando inizi ad avere le allucinazioni questo qua dal pubblico gli ha chiesto ma cosa vuoi dire? quando inizi a vedere delle cose che capisci che non esistono a quel punto bisogna che ti fermi e quindi sono queste le particolarità che bisogna recepire da questi personaggi che fanno queste imprese questa abilità di sapere indagare il proprio corpo e i segnali del proprio corpo questa è una cosa bellissima Zico siamo nel 2021 e naturalmente tutto quello che viene fatto ha bisogno di essere documentato so che avete realizzato un sacco di materiale tra l'altro mentre stiamo parlando i nostri telespettatori stanno vedendo molte immagini che sono state girate e so che c'è in programma anche un film insomma ci sono diverse cose in programma perché l'impresa diventa il fulcro di una serie di comunicazioni a tutto tondo sì esatto avevamo con noi un videomaker di Bormio quindi è stato presente per quasi la totalità dell'evento e un fotografo professionista che era Matteo Zanga quindi abbiamo creato delle immagini veramente di qualità suggestive e anche cogliendo momenti molto importanti se vogliamo i momenti di difficoltà in particolare che interessano a molti la chiave nel racconto sarà molto importante anche cercare di far percepire alle persone il mio passato come appena diceva Maurizio questi momenti di difficoltà che a volte si vivono nell'ultra cycling anche eccedendo i limiti a volte sono capitati anche a me nel mio passato e ti aiutano se vogliamo poi a trovare degli equilibri più mente corpo e non solo magari la mente che tira o il corpo che tira quindi è tutto un bagaglio di esperienza che viene da molto lontano e nei filmati vorremmo provare anche a raccontarlo io ero nel 2019 come dicevi prima ho portato a termine un record mondiale nell'Everesting ero seguito da uno studio universitario dell'Università d'Urbino da sanitari quindi nelle mie imprese c'è sempre anche la voglia di sperimentare ma anche di tirar fuori informazioni se vogliamo per la collettività è una mia passione anche quella della sperimentazione scientifica che condivido con l'università e alcuni studi quindi anche qui vogliamo essere bravi nel raccontare un po' quello che può emergere da queste prestazioni che se vogliamo sembrano paradossalmente straordinarie ma poi alla fine le fanno persone ordinarie quindi è un lato interessante allora diamo qualche numero però perché sicuramente sono quelli che fanno più effetto sono quelli più memorabili e a casa sicuramente si staranno domandando sì ho capito è andato sullo stedio sì ho capito è stato un mese sì ho capito è andato su e giù ma 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 qualche numero di quelli un po' shocking diamoli un po' sì allora i numeri che sono venuti fuori alla fine sono numeri anche molto interessanti perché abbiamo fatto ho fatto 155 mila metri di dislivello cioè pari a 17 volte l'altezza dell'Everest e percorso 4400 chilometri salita e discesa nella medesima salita quindi significa che io con quel chilometraggio avrei potuto attraversare gli Stati Uniti e questo è il lato un po' interessante che incuriosisce gli addetti ai lavori i non addetti ai lavori e anche gli atleti come per dire Omar Di Felice molto esperti e vincenti nell'Ultra Endurance il fatto di rimanere per così tanto tempo in un'unica salita quindi l'aspetto mentale se vogliamo l'aspetto mentale che è stato da sempre ormai nell'ultimo decennio la mia passione come sperimentazione nei miei eventi sempre nuovi ed è diventato poi attraverso una formazione continua anche la mia professione quindi sono diventato un life and sport coach mental coach professionista e cerco di aiutare poi e quindi anche le altre persone a raggiungere a trovare e raggiungere i loro obiettivi quindi è un po' questo il leitmotiv del mio ultimo decennio ma questo decennio era stato comunque preparato da altri 20 anni di continui di sport quindi diciamo che non sono imprese facili sono imprese realizzabili con difficoltà ma l'unico grande segreto è il lavoro l'impegno e la perseveranza per cui qui c'è anche la risposta alla domanda di quel bambino mi dicevi prima di andare in onda mi raccontavi che te incontri anche le scuole le classi eccetera di quel bambino che alza la mano e dice ma perché che poi alla fine qualcuno a casa se lo stava domandando perché però la risposta c'è la risposta non è una sono tante sono per fare comunque l'impresa per fare uno studio sicuramente medico scientifico per portare dei dati dei risultati per valorizzare ancora di più quella che è una propria abilità personale nel trasmettere ad altri insomma credo che ce ne siano di perché ce ne siano in quantità sì è che quando alzi molto il livello succede anche questo Paolo quando sposti il limite così tanto avanti se però non te la racconti giusta qualcosa succede nel senso che io avevo ben chiari i miei obiettivi che erano quello di esplorare e condividere e questa domanda torna sempre in mente nei momenti di difficoltà se veramente ti sei raccontato la verità trovi la motivazione per andare avanti perché pensate voi alla scalata ipotesi numero 19 una crisi profonda e ne ho vissute tante come è normale che sia tu sei focalizzato su un eventuale numero che rappresenta le aspettative delle persone in realtà e non le tue quell'obiettivo ancora così lontano potrebbe schiacciarti invece in realtà il mio obiettivo che era quello di esplorare ti pone in una situazione di tranquillità perché esplorando tu non sai realmente a cosa stai andando incontro e sei pronto ad accettare anche le conseguenze o le difficoltà magari vedendole come opportunità perché dici a te stesso sei qui per esplorare sei stanco hai sonno beh mi sembra la situazione giusta per esplorare quindi c'è sempre un motivo che ti spinge ad andare avanti e paradossalmente a trovare poi invece un equilibrio col corpo che chiede i suoi diritti quindi è stato un po' questo le grandi crisi ci sono state ed è stato quello anche il motivo per allineare corpo e mente e trovare un buon equilibrio io sono letteralmente affascinato proprio perché sono così lontano da questo mondo pratico però mi sto avvicinando invece all'osservazione e sono letteralmente affascinato mi viene da chiederti un'altra cosa hai parlato di un momento di crisi alla diciannovesima mi hai detto un attimo fa hai avuto mai la sensazione di dire dai non ci riesco smettiamo qua no mai devo essere sincero ho avuto momenti di grande crisi con Maurizio c'era un confronto continuo perché chiaramente la necessità di allineare il corpo alla mia mente che in quel momento tirava inesorabilmente tirava per esplorare però c'era anche la necessità di allineare poi le esigenze del corpo quindi c'era un confronto sempre continuo con Maurizio le volte che su è stato e con il mio medico di condotta per cercare anche una valutazione esterna lucida obiettiva perché a volte essendo coinvolto essendo dentro la performance non hai sempre una valutazione lucida quindi il confronto con Maurizio con il mio medico con gli elementi del team con mia moglie così mi ha sempre aiutato a trovare il giusto equilibrio e a superare i momenti di grandi difficoltà però l'idea di interrompere la perfuma sinceramente qualche dubbio qua e là perché eravamo anche insomma in situazioni molto difficili ma mai mi è venuto in mente di mollare un così prestigioso obiettivo progetto di arrivare al trentesimo giorno valutando però giorno per giorno una sensazione libera illimitata di gestione questa è la parte che è se posso dire geniale non so se altri l'approcciano in questo modo ma quello che ci eravamo detti prima cioè l'idea che sì c'è una scaletta c'è un percorso ipotetico forse più nella testa degli altri che nella testa tua però in realtà l'obiettivo è quello di andare avanti sperimentando e questa cosa qua rende secondo me l'impresa ancora più interessante è importante perché tiene dentro quella caratteristica che io ritengo sia necessaria nell'impresa cioè il rischio di non farcela che se un'impresa non ha dentro questo rischio non è una vera impresa però allo stesso tempo lo tiene nell'angolino perché poi in realtà gli obiettivi sono altri e non c'è solo un traguardo una striscia con scritto traguardo da raggiungere ma c'è tutta una serie di passaggi da fare per cui da una parte l'impresa conserva ha comunque tutte le sue caratteristiche ma dall'altra apre ancora di più all'idea che si sperimenta di giorno in giorno si accumulano dati, informazioni esperienze e conoscenza la domanda però a questo punto è ma raggiunto un risultato come questo che cosa succede dopo dopo che hai superato l'unlimited qual è il prossimo passo Maurizio te lo sai già o lo chiediamo a Zico no io non lo so ma in un post che ha fatto appena tornato sui social gli ho commentato e adesso bisogna che pensiamo alla prossima perché questa ormai lui dice bene lui è seduto per cui è fatta ma ha la sua bella parte di impegno e quindi ti dico perché giustamente devi sempre guardare a un qualcosa di nuovo è un qualcosa che devi trasmettere agli altri e siccome tu prima parlavi di dati magari le persone fanno fatica a capire certe cose certi dati e soprattutto poi magari chi pedala Zico per dire in queste sue scalate giusto per far capire un attimo le differenze cioè ha scalato lo steglio in un'ora e 35 ma ha scalato lo steglio anche in due ore e 20 cioè come per far capire ci sono stati dei momenti sicuramente dove stai veramente bene però ci sono stati dei momenti se guardiamo insomma ci sono 50 minuti di differenza in una scalata di 23 km sono tantissimi con dei battiti medi bassissimi 95 capito quindi è lì che veramente devi essere capace di gestirti non quando stai bene quando come si suol dire nel gergo ciclistico la gamba gira quando la gamba gira viene tutto da sé prendi spingi pedali e vai e quando invece non va che lì devi allora stare lì concentrato e forse capire che devi andare ancora più piano perché se no rischi in quei momenti veramente di andare in grossa difficoltà e chi lo seguiva perché poi naturalmente io parlando anche con chi era lì in quei momenti erano più preoccupati loro che vedevano che lui andava su così piano che continuavano a chiedergli come stai ti vuoi fermare invece lui era talmente tranquillo perché aveva visto che quella giornata lì non c'era quindi era andato ancora più piano di quello che forse poteva andare perché lui doveva pensare non a quella scalata ma a quelle successive i giorni successivi quindi sono queste le cose importanti e sono queste cose che lui riesce a trasmettere per dire un'altra frase che a me è rimasta impressa di queste giornate che siamo andati su di un mio amico che è venuto su con me che alla fine dei due giorni mi ha detto grazie dell'opportunità che mi hai dato di vivere questi due giorni ecco queste sono cose che sono molto importanti che ti toccano veramente in profondità quindi devo dire che per me è stata un'esperienza veramente bellissima per questo che ho detto a Zico quale sarà la prossima perché sono cose che sono piacevoli da vivere ci stai già lavorando? ma le idee in cantiere ce ne sono sempre tante adesso la sfida sarà anche coi partner che mi hanno aiutato in maniera importante in questo progetto tenere il livello alto perché poi insomma la fase logistica organizzativa alzando il livello diventa importante non solo per me ma diventa importante anche dare un'opportunità ai sponsor ai collaboratori e condividere anche l'idea di un progetto questo era un progetto sperimentale se vogliamo anche difficile da accettare in questo momento anche per gli sponsor perché il risultato non era certo e loro questa cosa ce l'avevano chiarata all'inizio sarei potuto tornare a casa anche dopo sette giorni fin di conti il mio record era aver pedalato per sette giorni in salita così ecco se c'è questa condivisione credo che di progetti ne avremo ancora tanti è un po' che mi frulla in testa una domanda non so se farla o non farla alla fine la faccio perché è una domanda veramente dell'ignorantissimo 100 risalite 101 101 discese ma in discesa che effetto fa soprattutto dopo che sei arrivato fin in cima e a cosa bisogna stare mi dà l'idea che sia pericolosa la discesa dopo una risalita così non so perché la discesa in particolare quella dello Stelvio è una discesa molto particolare innanzitutto è molto lunga poi parte da 2008 quindi parte da una situazione di freddo e arriva in una situazione di caldo quindi il vestirsi e svestirsi eccetera e poi anche numericamente se vogliamo io ho percorso 2200 chilometri in salita e 2200 chilometri in discesa e che discesa cambiando tre volte le pasticche cambiando due volte i dischi quindi insomma è stata una discesa se pensiamo che è stata impegnativa meccanicamente per la bici potete immaginare che anche fisicamente lo è stata poi la discesa in queste discipline diciamo di ultra endurance è molto impegnativa perché c'è l'ostacolo la barriera del sonno quindi se sei diciamo in un momento dove stai soffrendo sonno la discesa diventa anche pericolosa che ci si incanta e non si perde un po' il timing delle staccate delle frenate così bisogna essere molto lucidi però avevo anche con me gente insomma che valutava anche loro dall'esterno la mia lucidità quindi non abbiamo mai oltrepassato una zona di rischio ecco allora io starei a parlare ancora tantissimo ma temo proprio che abbiamo quasi esaurito il tempo a disposizione vi do spazio per un paio di battute conclusive come si fa agli esami universitari quelli difficili domanda piacere insomma perché a questo punto le mie curiosità e spero di aver interpretato le curiosità dei nostri telespettatori le ho un po' esaurite e adesso vi lascio un po' alla chiusura insomma Maurizio ma secondo me abbiamo già detto tanto io la cosa che voglio vorrei trasmettere a chi ci ha seguito o a chi non ci ha seguito è di andare sulle pagine di Zico Pieri perché possono rivivere questa esperienza con tutto quello che lui ha pubblicato le storie che ha pubblicato giornalmente hanno avuto un grandissimo seguito adesso sta preparando tutto il materiale di quei 30 giorni che piano piano pubblicherà e secondo me possono trasmettere tante emozioni anche a tante altre persone per iniziare a valutare e a capire forse di poter vivere la bicicletta in un modo diverso e riuscire a togliersi delle soddisfazioni con una pedalata che può essere per tutti tutti possono se vogliono farsi la propria impresa quindi questo secondo me è quello che lui in questi giorni nel materiale che pubblicherà riuscirà a trasmettere secondo me a tante persone e poi svelo un piccolo forse progetto futuro che ne parlavamo con Zico probabilmente magari metteremo lì un qualcosa per far vivere un evento magari di gruppo e quindi portare delle persone a poter vivere in prima persona alcune emozioni per arrivare a un'impresa personale e un giorno poter dire l'ho fatto anch'io Zico sperando che non ti abbia bruciato tutti gli argomenti a te la chiusura no beh è chiaro che a livello la valutazione della performance insomma ci vorrà anche tempo sia per me che per le persone per avere insomma un po' una visione oggettiva un po' esterna quindi lasceremo un po' di tempo per le valutazioni l'aspetto più importante è sicuramente stato la condivisione che ha colpito veramente tutti un giornale locale l'Alta Rezia News ha pubblicato subito un grande articolo che in Valtellina tanti sono stati colpiti da questa condivisione e quello che piace a me far passare il messaggio principale ed è la caratteristica che mi ha portato a realizzare tante imprese tanti eventi tanti progetti molto importanti che è tutto basato su lavoro impegno e perseveranza questa caratteristica ci permette non solo di raggiungere grandi risultati ma modifica anche alcune delle nostre funzioni cerebrali e emotive in particolari e ci aiutano a connettersi con le nostre emozioni prima e con le emozioni delle altre persone e ci permettono questa grande condivisione quindi non ci sono segreti sono anni che faccio test scientifici universitari di laboratorio non c'ho niente di speciale tutto quello che faccio lo faccio attraverso un grande impegno progettazione lavoro impegno progettazione perseveranza questo ci permette di raggiungere grandissimi risultati fino a trasformare la nostra passione in una professione bene allora abbiamo ascoltato e sicuramente come me anche i nostri telespettatori si saranno stupiti meravigliati avranno partecipato emotivamente perché queste cose non possono passare lisce e non passano sicuramente inosservate anche perché Rossini TV sta dando molto spazio giustamente a tutte le imprese che vengono seguite da Maurizio Radi di Fisoradi Center e sicuramente dopo questo ascolteremo e vedremo anche altro e prenotiamo già il film appena possibile e poi l'invito è quello a continuare a seguirci sia in questa che in tutte le altre cose che seguiamo come Rossini TV grazie a tutti i telespettatori grazie a Maurizio Radi grazie a Zico Pieri appuntamento alla prossima impresa grazie a tutti